La Regione Puglia chiederà 5 milioni di euro come risarcimento d'anni ai 33 imputati, tra cui il senatore Alberto Tedesco, ex assessore regionale alla sanità, accusati di far parte della presunta cupola che tra il 2005 e il 2009 avrebbe gestito la sanità pugliese. Con la richiesta di costituzione delle parti civili è cominciata questa mattina l'udienza preliminare della prima maxi-inchiesta della Procura di Bari sulla presunta mala gestione della sanità. Oltre alla Regione Puglia hanno depositato richieste di costituzione come parti civili le ASL di Bari, Lecce e Taranto, l'ARPA Puglia e la COP Service. Si tratta della prima delle tre inchieste a carico di Tedesco che portò alla richiesta di arresto respinta due volte dal Senato per l'ex assessore della giunta guidata da Niki Vendola. A Tedesco vengono contestati i reati di associazione per delinquere, concussione, abuso d'ufficio, corruzione e falso. Per l'elevato numero di imputati l'udienza preliminare si celebra nell'aula della Corte d'Assise. Nell'inchiesta sono coinvolti anche l'ex direttore generale della ASL Bari, Lea Cosentino, imprenditori, dirigenti di alcune ASL e di ospedali pubblici pugliesi ed esponenti locali del PD. Secondo i PM Tedesco, assieme ad altre 19 persone avrebbe fatto parte di una rete che era in grado di controllare forniture e gare di appalto che venivano illecitamente pilotate verso imprese facenti capo ad imprenditori collegati da interessi familiari ed economici con i referenti politici e che erano in grado di controllare rilevanti pacchetti di voti elettorali da dirottare verso Tedesco in occasione delle competizioni elettorali. Il gruppo Antonio Diella ha rinviato l'udienza al 5 ottobre prossimo per decidere sulle richieste di costituzione delle parti civili. Nella stessa occasione si discuterà anche la richiesta di riunione di questo processo con quello a carico del governatore Nichi Vendola, accusato di concorso in abuso d'ufficio insieme a Lea Cosentino per un concorso da primario all'ospedale San Paolo. Della questione di cui si è già discusso nell'udienza preliminare a carico di Vendola è stato investito il presidente del tribunale Vito Savino che deciderà non prima di aver ottenuto il parere del giudice Diella.